mi ricordate questo film di nightmare o quest'altro non ce la faccio più non ce la faccio più slovan 2 milan 3 non ce la faccio più ragazzi siamo al 26 di novembre e davvero cioè non so se rego una stagione così anche perché poi sappiamo che ci sono le critiche dietro anche questa vittoria e ci sta ci sta ci sta tutto un milan dominante un milan che ha dominato tutta la partita ma se non fa le sue cappellate quotidiane mi va di dire in difesa non è contento mi viene da ridere che gli antipioliani quando si mettevano contro pioli nella difesa ma Fonseca sta facendo peggio ragazzi guardate che sta facendo peggio abbiamo vinto tre punti importanti terza vittoria di fila in Champions 3 a 1 col Bruges 3 a 1 al Bernabeu 3 a 2 in casa dello slovan Bratislava nove punti siamo lì a un pliss anche dalle prime otto per qualificarsi eventualmente direttamente agli ottavi senza passare i playoff quindi a livello di numeri ci siamo ci siamo era quello che dovevamo fare oggi dovevamo vincere e convincere ma questa convinzione io la vedo a metà anche perché se andiamo a vedere è stata davvero una una partita che al di là dei gol di Pulisic di Leao di Ebram non dobbiamo trascurare l'ennesimo disastro difensivo una squadra che per l'ennesima volta ha dimostrato dei limiti a livello di gioco a livello strutturale se andiamo a vedere anche poi sin dall'inizio ci sono stati ben sette sette giocatori rispetto all'undici iniziale cambiati rispetto allo 0-0 contro la Juventus da Calabria Tomori Pavlovich Ciuqueze Pulisic Okafor Ebram questo fa capire che secondo me Fonseca ancora non ci ha capito niente la vittoria era d'obbligo perché chi era nel gruppo di Telegram degli abbonati della tribù lo diceva se il Milano vince stasera preparatevi una serie di vaffa senza fine e ringraziamo il cielo che è arrivata questa vittoria anche perché se poi prima di entrare nell'analisi più cruda proprio della partita mi piacerebbe anche vedere un po' le statistiche perché le statistiche parlano completamente di un Milan che ha dominato la partita davanti a una squadra completamente rinchiusa in difesa e le statistiche quello che dicono sono 66% possesso palla il Milan 15 tiri a 6 di cui 5 a 3 nello specchio 4 a 2 fuori punizioni 15 a 12 per il Milan 8 a 4 i calci d'angolo e quindi da sto punto di vista la vittoria strameritata voglio aprire subito una parentesi perché non mi è piaciuto l'arbitraggio ci sono stati due episodi molto dubbi in area di rigore dopo 4 minuti un contatto di Ciuqueze che con il piede lo atterra e non è andato anche al VAR nel secondo tempo stessa cosa addirittura trattenuto da due in uno è arrivata una spintonata e anche una pedata neanche in quel caso al VAR due situazioni molto dubbie che onestamente mi hanno fatto girare i ball e poi il secondo gol dello Slovan è arrivato da un fallonetto dall'altra parte del campo su Leao che non è stato dato alla fine poi espelle il giocatore dello Slovan al 92esimo Tolis come cacchio si chiamava però arbitraggio Sanchez scandaloso secondo me è stato veramente indegno da una partita di Champions e dunque il Milan vince una partita complicata una partita che testimonia innanzitutto il momento non brillante se vogliamo dire realmente di brillante il Milan quest'anno abbiamo visto solo nel derby contro il Real Madrid poi abbiamo avuto degli alti e bassi un Luna Park continuo senza fine questo turnover sinceramente che non si confà anche con la tradizione rossonera io ricordo lo stesso Fabio Capello i tempi io anche tra una partita e l'altra che si è di Coppa Italia al massimo cambio tre giocatori ma non cambio la struttura della squadra e qua cambiare i set undicesimi al di là del risultato che c'è stato contro la Juventus secondo me è stato eccessivo un primo tempo dove appunto abbiamo visto un Milan che in un modo o nell'altro è riuscito a passare in vantaggio ma attenzione perché in un'azione precedente stavano per passare in vantaggio loro e se non era per Pavlovich che la salvava sulla riga rischiavamo che eravamo già sotto 1-0 poi è arrivato questo gol di Pulisic su una buona azione di Abram e in maniera molto delicata e pulita gliela ha messa nell'altro angoletto al portiere slovacco ma non passano neanche tre minuti ennesimo errore difensivo cioè non puoi lasciare Reinders come ultimo uomo in un'azione di contropiede e questi piglia vanno e riescono a pareggiare 1-1 cioè il primo tempo finisce così ero vi dico la verità abbastanza incazzato abbastanza incazzato perché tu non puoi fare la partita e con due azioni di contropiede uno il gol te lo fanno e l'altro solo perché è arrivato un intervento di Pavlovich se no veramente non so di che partita parlavamo stasera il secondo tempo cioè la mossa che realmente io non ho capito cioè non mettere Leao dall'inizio allora caro Fonseca io sai benissimo che ti difendo e ti sostengo per il fatto che da milanista non mi piace mettere veleno laddove già ci pensano altri youtuber e altri giornalisti però figlio mio e no così non va cioè tu i migliori effettivi in una partita di Champions li devi sempre mettere e Leao non lo devi lasciare fuori infatti quando poi è entrato Leao si è visto che è cambiata la partita senza nulla togliere rocaforma lo metti quando tu hai già in mano la partita non quando dobbiamo cercare di ribaltare quasi una situazione che se avessimo fatto fare il primo punto allo Slovan in questo Champions League sarebbe stato da prenderti a penderti al muro caro Fonseca perché fare il piccolo chimico non lo fa in Champions League lo fa in Coppa Italia fare degli esperimenti ma non lo fa in Champions League quando i tre punti sono fondamentali entra Leao e Leao poi ti fa il secondo gol un grandissimo gol che ne mette lì una cucchiarella grande invenzione di Fofanà Abram che lascia passare per Leao mette il 2-1 dopo neanche tre minuti un errore clamoroso di Strelek che tra l'altro stava facendo anche una buona partita il giocatore dello Slovan dà la palla probabilmente a Temmi Abram che piglia la mette in porta il 3-1 e quindi meno male che siamo riusciti a consolidare diciamo con il terzo gol questa partita ma dobbiamo stare sempre con i patemi d'animo fino alla fine ragazzi sto cacchio di ragazzino ma poi è italiano sto ragazzo qua Marcelli è entrato sto Marcelli ti trova il gol della vita sotto l'incrocio 2-3 e a rischio che gli ultimi minuti dovevamo stare attenti pure che questi magari pareggiavano sinceramente mi porto a casa i tre punti perché stasera bisognava vincere punto punto e non voglio creare ulteriori polemiche perché tanto già ci penseranno altri youtuber altri giornalisti a trovare il pelo nell'uovo trovare come si dice il chiodo nel fieno della capanna però ragazzi la fase difensiva è imbarazzante imbarazzante poi anche lì sul fatto del cambiare sempre giocatori e fare questi turnover così massicci arriva un momento che anche i giocatori tra di loro in campo non c'è compattezza e quindi questi sfasamenti sono ormai diventati cronici in questa squadra soprattutto in difesa se contro la juve tu hai fatto una partita impostata nel non prendere gol però manco fare ti importa oggi che ti sei sbilanciato però ancora la fase difensiva una volta che ti sbilanci cosa fai hai buchi dietro e ti fai imbucare due volte cioè dallo slovan dai perché abbiamo fatto tre gol non mi incazzo semplicemente perché quando si vince sono tre punti e va bene però non è che sono contento al cento per cento che sia chiaro sono contento del risultato sono contento del fatto che comunque riusciamo a nonostante una squadra completamente in difesa tutta la partita e sono queste le partite che il Milan hanno sempre messo in difficoltà siamo riusciti a fare tre gol fuori casa però non possiamo prendere sempre questi cazzo di gol così a cazzum non si può cioè poi dopo un po' ci si stufa anche quando ha fatto poi col pareggio ha detto ma vaffanculo cazzo quando ha fatto il 3 a 2 alla fine ve lo giuro cioè ero con l'ansia gli ultimi 5 minuti ero con l'ansia a stile proprio Freddie Mercury stile maestro Zan no all'ottantottesimo quando ha fatto il secondo gollo Slovan ho cominciato ad avere un po' di attacchi di paio un po' un pochino tanto pochino che ho dovuto chiamare infermiera il maestro Zan ve lo ricordate il personaggio ragazzi io non ce la faccio a reggere un campionato così vi dico la verità non ce la faccio da questo punto di vista della squadra non ce la faccio anche perché poi le critiche stanno sempre lì una dietro l'altra io non ce la faccio fammi sapere tu come l'hai vissuta in basso sempre forza mio comunque contentissimo per i tre punti però sapete che quando sei contento di qualcosa ma quel sì però no mi porto i tre punti a casa nove punti in Champions League va benissimo però però sapete quel però che mi piasminga come si dice a Milano vabbè importante aver vinto dai portiamoci a casa sti tre punti sempre forza mio comunque comunque non disegnare di mettere like iscrizione condivisione ovunque comunque e poi domani a freddo cerchiamo di ragionare anche su questa partita buona serata slovan